104 anni e in segno di infinito affetto e profonda gratitudine per la sua attività di lavoratrice del comune di Napoli, svolta con dedizione, altissimo senso del dovere e passione civile al servizio della nostra città. 31 ottobre 2011. Il sindaco. Ha festeggiato con il sindaco Luigi De Magistrisi sui 104 anni Rosa Canetti, ex dipendente di Palazzo San Giacomo. La signora ha ricordato nella sala giunta gli anni trascorsi al comune come dipendente nei diversi uffici. Lucida e simpatica ha scherzato con il sindaco sul suo lavoro di primo cittadino e ha ricordato alcuni suoi predecessori come il comandante Lauro. Rosa sarebbe un'ottima testimonial della nostra campagna di utilizzo dei mezzi pubblici, ha affermato il primo cittadino, riferendosi alla vita dell'ex dipendente che ha ricordato di essersi mossa sempre senza auto e utilizzando mezzi pubblici per andare al lavoro. La donna, nata il 31 ottobre del 1907, è stata assunta nel febbraio del 42 ed è andata in pensione nel maggio del 77, raggiungendo 35 anni di servizio e 70 anni di età. A brindare con lei nella sala giunta c'erano anche i nipoti e i pronipoti ed alcuni giovani dipendenti comunali.